Ciao Ninetti, bentornati in un nuovo video! Come vedete sono nella postazione quella dove arriva la luce bella, naturale dalla finestra e mi piace un sacco perché così ci sono cose che posso farvi vedere per bene alla luce naturale perché odio profondamente la luce quando non è realistica, quando non vi fa vedere quello che vedo io, quindi sono totalmente felicissima di aver trovato questa postazione e quindi adesso iniziamo a scoprire un po' delle creazioni in resina che ho fatto in questi giorni, in realtà queste le ho fatte tutte ieri ma era un pochino di tempo che non vi facciamo vedere qualche scopriamo e questa volta volevo assolutamente registrarlo inizierei da queste due creazioni che sono a tema multicolor e pastello quindi vediamo come sono venute in realtà non so ancora per cosa le utilizzerò però andando in estate e quindi c'è sempre bisogno di colori allora questa è uscita così questa base in realtà non è che mi piaccia più di tanto perché non la base ma lo stampo perché è quello che ho fatto io e viene sempre vedete un sacco di eccesso un po' storto quindi è sempre da rifilare al massimo ma è venuta così e non lo so non mi fa impazzire più di tanto devo essere sincera il celeste il celeste è l'unico colore forse che mi piace in questo miscuglio quindi beh non lo so non mi fa impazzire più di tanto però è comunque molto molto carino poi sempre con gli stessi colori ho fatto questo e anche qui non è che io abbia grandi grandi aspettative visto che questi colori insieme ho appena scoperto che non mi piacciono più di tanto però vediamo oh questa è carina invece questa è molto molto carina beh qui ho innanzitutto utilizzato un principio diverso quindi non volevo fare la sfumatura che partisse da sotto verso l'alto dall'alto verso sotto ho fatto semplicemente macchie di colori in vari punti tipo c'è del lilla qui qui celeste celeste rosa rosa e ho messo insieme tutti questi colori e devo dire che questa non mi dispiace per niente ecco questa qua è una bella creazione estiva è super super colorata non mi dispiace per niente anche se questo rosa qui ha nella tonalità un pastello quindi aggiungendo a rosa un po' di bianco esce questa specie di rosina un color pesca sembra quasi un color carne che non mi fa impazzire più di tanto ma è comunque abbastanza carino quindi c'è questo qui poi vediamo cos'altro posso farvi vedere poi ho utilizzato di nuovo i pigmenti quelli i zinc di cui ho fatto il video review e ho fatto questa base cammina d'orologio è molto molto semplice in realtà però siccome il colore mi piace tantissimo ho deciso di di realizzare questa base in modo da farci qualcosa all'interno poi vedremo cosa però visto che non l'ho ancora praticamente mai usata con le mie creazioni ho detto vabbè proviamoci magari riesce qualcosa di carino magari no insomma lo scopriremo solo vivendo poi c'è questo stampo bellissimo che in realtà io ho già provato ho fatto due tutte e due le ho fatte con il pigmento bronzo forse già un pochino si vede che era rimasto sporco e tutte e due già le ho lavorate per utilizzarle poi con le mie prossime creazioni ma questo stampo l'ho acquistato da una dolcissima ragazza che trovate su instagram come albeautifulcolors ciao Ale e niente è uno stampo che amo tantissimo appena gliel'ho visto gliel'ho chiesto subito me l'ha fatto un tempo brevissimo è stato davvero molto molto dolce e c'è praticamente un ancora e un timone ma sono fantastici e soprattutto mi preme tantissimo dirvi che lo stampo è perfetto perché quello che ho realizzato all'inizio è uscito davvero perfetto ecco qua questa è l'ancora ecco sì mi è uscita una bolla qui che mi ha smizzato la catena ma più che altro perché bisogna avere un po' di pazienza e andare con lo stuzzicadenti in ogni piccolo punto per far sì che entri per bene la resina ma in generale questa è l'ancora e in realtà questa ancora l'ho realizzata con il pigmento Mermaid azzurro quindi in realtà quando la luce ci batte sopra ecco forse un po' si vede si dovrebbe vedere azzurro cioè io dal vivo lo vedo lo vedo tantissimo però non so se si vede dalla videocamera e come vedete ok vabbè si è macchiato per colpa mia insomma a parte qualche scartino poi da queste parti è assolutamente assolutamente bellissima mi piace da morire quindi c'è l'ancora e c'è il timore che invece ho fatto con i colori degli easing e guardate com'è perfetto questo timore anche è veramente fantastico e con questo colore rende tantissimo sembra quasi laccato questo colore se messo in uno stampo lucido ed è davvero davvero molto molto carino e quindi ho provato a riprodurre di nuovo questi anche se gli altri non ve li avevo fatti vedere questo è lo stampo che amo vi giuro questo stampo lo sto amando tantissimo tutto merito di Alessia e di Albeautiful Colors ma è uno stampo perfetto mi ero dimenticata che sempre con i colori pastello di prima ho fatto questa base qua ecco questa è già un po' più carina anche qui non so realmente come usarla anche perché questa qua in realtà era lo scarto di quelle due che vi ho fatto vedere prima però non è male devo essere sincera è abbastanza carina sì non è male poi questa base è comunque sempre molto carina quindi come la fai la fai viene bene poi c'è questa qui che guardate quante luci io spero si videranno anche dall'altro lato comunque penso che alla fine dall'altro lato verrà anche lucidata e ho usato tantissimo pigmento olografico verde preso da Spark Recessor Shop e guardate che bello quante luci ne fa ovviamente calcolate che gli stampi con questa gomma non sono molto lucidi quindi io questo qua lo andrò a lucidare e dovrebbe far uscire fuori ancora di più tutto questo gioco di luce perché non so se lo riuscite a vedere è così guardate quanto sbrilluccica vedete dietro lo è molto di più perché è molto lucido generale alla luce si vede ed è bellissimo mi piace da morire devo solo trovare il modo di lucidarlo un attimo prima di utilizzarlo perché è troppo troppo bello poi c'è questa qui che era uno scarto di colore che ne avevo fatto davvero davvero molto tanto molto troppo e l'ho messo qui dentro eccolo qua ed è venuto semplicemente su questo celestino molto molto carino molto molto carino mi piace un sacco devo essere sincera molto molto carino come azzurro questa base poi è sempre carina sebbene io non la stia utilizzando più come prima ma è sempre molto molto carina poi con i colori originali di questo scarto avevo fatto questa qua che per una commissione quindi vediamo come è venuta oh perfetto è venuta perfettamente come mi serviva quindi sono stra stra contenta ovviamente da rifilare nei lati ma è perfettamente quello che dovevo ottenere ecco qua questa è per una ninottolina e poi c'è questa qua che invece è sui toni del blu oddio forse dalla videocamera sembra viola ma è blu blu cioè blu blu pieno di brillantini e questo dovrebbe essere anche per una commissione ma devo un attimo modificarlo in alcuni punti con un po' di colorante bronzo perché insomma la commissione dice anche questo e la farò vedere alla committente che mi dirà se le piace è molto molto carino e sbrilluccicoso comunque sì mi piace come è venuto poi cos'altro vi faccio vedere allora sempre con i pigmenti a me al mezzo quindi quelli che al sole si vedono vedete più colorati ho provato a fare queste perché sono estremamente estremamente lucide allora questa è gialla ma ne è rimasto pochissimo ecco guardate che bello cioè praticamente alla luce vedete in realtà si vede bene anche all'ombra e non solo alla luce però è su base bianca con diversi colori guardate questo è un bellissimo giallo mi piace da morire questo effetto ed è quello con la quale ho realizzato le signe olografiche poi questo qua è quello con il rosa che vedete se ve lo tengo così non si vede tantissimo forse perché ho un po' più carico di bianco spero che adesso si riesca a vedere in qualche modo la luce perché si sta spostando la luce ed è più su non è più diretta verso di me quindi non so se si vede ecco forse da ecco dal riflesso oddio perché io dal vivo lo vedo però non so come farvelo vedere a voi non so non prende ecco diciamo che un po' si vede però dal vivo vi assicuro che si vede davvero davvero tanto ed è bianco con queste luminescenze rosa bellissime e poi c'è il mio preferito che è quello con l'azzurro alla quale io sotto ce l'ho aggiunto un pochino di di giallo in realtà ecco vedete questo si vede benissimo e perdonatemi il sole si sta spostando oppure c'è una nuvola davanti ma sta creando davvero un sacco ombra guardate che bello quante lucine che fa al suo interno e questo è celeste vedete sotto c'era un po' di giallo infatti si vede qui sono bellissimi vi giuro li amo tantissimo perché sembrano magici poi cos'altro posso farvi vedere adesso sempre con questi pigmenti delle perle ho fatto una base cammio mettendo tutti quanti i colori all'interno e niente sono troppo troppo curiosa oh mio dio vabbè si è macchiata mannaggia di un colore che c'era sotto però è troppo bello aspettate che bisogna fare ho scoperto molta attenzione con queste parti filamentose di resina perché perché mi si è infilizzata ieri una come scheggia nel dito e non vi dico il dolore ecco adesso sta arrivando davvero tanta tanta luce quindi spero mi permetta di farvi vedere bene tutti tutti i colori ma no bene dal vivo si vedono ma è vero perché anche questa qua è da lucidare ecco perché non li vedete ma c'è del rosa qui che credo al momento si veda qua e qua celeste e qui giallo e mi piace da morire l'effetto è bellissimo davvero davvero strabello però devo allucidarlo per riuscire a vedere ovviamente il risultato vero e proprio poi siamo arrivati alla fine dello scopriamo perché mi sono rimaste queste due di un'altra piccola cosina da farvi vedere c'è questa base c'è questa base che ho sfumato dal celeste al colore easing che mi piace un sacco poi c'è questa qui che invece ho fatto sempre questa è bellissima l'ho fatta tutta con il pigmento mermaid onografico celeste guardate che bello aspettate ve lo metto più vicino è troppo troppo bello anche questo qua lo luciderò e vedrò come usarlo ma mi piace da morire questo mi sembra proprio per una creazione di maghiaccio più che sirene perché è venuto questo bianco con le luci celesti che mi ricordano il ghiaccio quindi magari una piccola Elsa che non creda davvero davvero tanto tempo e l'ultima creazione che vi faccio vedere oggi non è da scoprire ma è questa ninottolina nuova alla quale ho fatto il suo mare celeste vedete tutta questa parte qua sembra trasparente ma c'è l'acqua praticamente questa qua anche la sirina in questa parte è inglobata nell'acqua e questa è una delle mie ninottoline su commissione che finalmente si è asciugata le resine perché stavo aspettando per farla vedere alla committente perché non si asciugava il dentro non so perché ma insomma è venuta così mi piace tantissimo come è venuta spero piaccia anche alla committente ed è le ninottoline per chi non lo sapesse sono questa collezione di sirenette molto molto piccoline eccole qua comunque bamboline che io creo però in versione veramente veramente piccolina e insomma questo è stato tutto tutto lo scopriamo le creazioni di resina di oggi io spero che le creazioni di oggi vi siano piaciute le mie preferite sono in assoluto vediamo sono un po' indecisa però questo sinceramente è tra i miei preferiti anche se non so come farvelo vedere perché in realtà si vede tantissimo la lucina celeste e poi vediamo questo qua è anche tra i miei preferiti perché è molto particolare sembra quasi macchie di pittura buttate lì sulla base quindi non lo so è molto particolare mi piace abbastanza e credo che basti così per i miei preferiti direi sì che sono questi però tra i miei preferiti ci sono anche queste due non tanto per i colori anche se sono bellissimi quanto per lo stampo e niente spero che questo scopriamo le creazioni di resina di oggi vi sia piaciuto io vi mando un piacere gigantesco e noi diretti ci vediamo nel prossimo video ciao ciao